In questa puntata, respinta una mozione sul trasporto pubblico locale. Mozione di Fratelli d'Italia contro Oliviero Toscani Premio Innovazione Toscana Violenza di genere, bambine negate Foiano Book Festival È stata respinta dall'Aula una mozione firmata dai consiglieri di Fratelli d'Italia, Gabriele Veneri, Francesco Torselli e Alessandro Capecchi, in merito alla gratuità dei pubblici servizi di trasporto per i corpi di vigilanza privata, purché indossino la divisa d'ordinanza. Come ha spiegato Veneri, illustrando l'atto, emendato in alcuni punti al centro dell'attenzione, c'era la preoccupante crescita di episodi di criminalità, vandalismo e delinquenza sui mezzi pubblici toscani. Personalmente credo che, ad esempio, la presenza anche delle forze armate che possano viaggiare gratuitamente anche sui treni è un segnale anche di attenzione a chi molto spesso porta la divisa e chi spende anche la propria vita proprio per, come dire, sostenere questo tipo di situazioni. Così non è stato, non c'è stato un approccio costruttivo. Si fa una questione di costi quando invece oggi la questione della sicurezza deve essere al centro anche dell'azione politica. È importante che ci sia una misura del governo insieme a una misura regionale che consenta alle forze dell'ordine di viaggiare nei mezzi pubblici senza dover pagare il prezzo del trasporto nel momento in cui si recano al lavoro. È un elemento positivo. Credo che si possa arrivare ad un elemento di convergenza nelle prossime settimane se anche da livello nazionale si possa sostenere questa che è una misura che a nostro avviso è positiva. Ho annunciato in aula che presenteremo una mozione nostra come gruppo del Partito Democratico e di maggioranza che governa la regione toscana affinché si riprendano quegli emendamenti presentati e, ripeto, per il 99% accettati dal proponente collega Veneri ma comprensivo anche della richiesta legittima, non fuori luogo, di chiedere al governo di impegnarsi nei confronti delle regioni che hanno questo genere di convenzioni. Ripeto, la Toscana è dal 1998 che ha questa convenzione perché a noi la sicurezza sui mezzi di trasporto pubblico sta molto molto a cuore e quindi con forza chiediamo di istituire questo fondo che ci consente di allargare la platea degli usufruenti, la convenzione già in essere, anche ai corpi di vigilanza privata, anche agli uomini e le donne della Guardia Costiera, anche agli uomini e le donne della Polizia Municipale, a tutti quei soggetti che con la loro presenza o in divisa o in borghese, purché dichiarandosi al controllore o al personale di bordo della loro presenza, garantiscano la possibilità di poter intervenire laddove ce ne fosse assolutamente necessità. Il PD ha fatto un emendamento perché ora è una classica mossa quella di impegnare il governo a inserire delle nuove risorse, quindi a spendere nuovi soldi, per una cosa che secondo noi invece poteva essere totalmente gratuita. Questa purtroppo sarà una prassi dei prossimi mesi, hanno già iniziato a farlo, ancora il governo non è formato e già loro vogliono impegnarlo su cose che noi non siamo ancora in grado di impegnare. Comunque peccato perché si è persa un'occasione per risolvere un problema a costo zero e il PD in questo è il numero uno, a fare i bilanci in rosso e a non risolvere i problemi. Avere la presenza delle forze dell'ordine in divisa sul trasporto pubblico è un deterrente per chi vuole delinquere. Guardate, ci è stato detto che non lo possiamo fare perché costa, a prescindere dal fatto che la sicurezza per il centro-destra e per Forza Italia non è mai un costo, ma è una cosa che noi dobbiamo garantire ai nostri cittadini. E l'elemento che abbiamo detto è, ma se è un costo, recuperate l'evasione dai biglietti. Noi abbiamo il 24% di persone che salgono su un treno, che salgono su un pulma, che salgono sul trasporto pubblico, che non pagano il biglietto. Basterebbe recuperare quella scifra lì per garantire di viaggiare gratis agli appartenenti delle forze dell'ordine e di far viaggiare sicuri i cittadini che scelgono il trasporto pubblico. Il Consiglio regionale ha respinto a maggioranza una mozione presentata dal consigliere di Fratelli d'Italia, Diego Petrucci. in merito alla richiesta di revoca dell'incarico ad Oliviero Toscani, a seguito alle dichiarazioni rese sull'esito degli ultimi risultati elettorali. L'incarico in questione è l'affidamento da parte della Regione del contest fotografico La Toscana di Toscani, una campagna promozionale, si legge nella mozione, dedicata al turismo femminile, in continuità con il progetto regionale Benvenute in Toscana, e per tutte le altre attività di comunicazione istituzionale che Regione Toscana realizzerà. Cosa ho provato quando ho capito che Meloni avrebbe vinto? Veramente non sapevo se era Vanna Marchio o la Meloni. Urla, strabuzza gli occhi, pitturati di blu mostra le unghie rosse. Direi che è abbastanza volgare. Gli italiani che l'hanno votata? Quando la maggioranza è cogliona, hai una democrazia cogliona. Gli italiani che hanno votato Giorgia Meloni sono deficienti per me. Queste sono le parole con cui Oliviero Toscani ha commentato le elezioni politiche del 25 settembre. Gravi in assoluto, gravi a maggior ragione nel momento in cui Oliviero Toscani è stato incaricato dalla Regione Toscana di fare una campagna alla Toscana di Toscana all'interno di Benvenute in Toscana per attrarre il pubblico femminile nella nostra Regione. Evidentemente le due cose stridano, evidentemente questa cosa è gravissima, per cui oggi come Fratelli d'Italia abbiamo presentato una mozione in Consiglio regionale chiedendo intanto di condannare le gravi esternazioni a livello Toscani e poi di revocargli l'incarico profumatamente pagato per fare questa campagna pubblicitaria. Anche perché ci chiediamo, le donne che Toscani vorrebbero attrarre in Toscana sono tutte, escluso quelle evidentemente che hanno votato Giorgia Meloni perché se sono, come lui ritiene, deficienti è evidente che la cosa non sta insieme. Io ho votato a favore perché ritengo che sia indecoroso quello che è stato detto e quindi la Regione Toscana deve prendere un provvedimento perché il rispetto nei confronti delle persone, in primis di una donna, deve essere da parte di tutti e soprattutto quando si ha un incarico a livello regionale e questo è molto grave quanto è successo, c'è un'offesa nei confronti anche dei cittadini che sono degli elettori, non possono essere denominati così come sono stati considerati in quella definizione e come tale la mia posizione è stata in coerenza con tutte quelle che abbiamo espresso come Consiglio regionale nel prendere le distanze da queste dichiarazioni è un metodo che deve essere lontano dalla cultura dei principi della Regione Toscana. Abbiamo votato a favore di questa mozione perché riteniamo che non ci sia niente di più inaccettabile quando si intende fare la morale o dare l'esempio dei due pesi e delle due misure. Giustamente il Partito Democratico si indigna quando vengono offese dalle esponenti del suo partito o di altri partiti a loro vicini se vengono insultati. Non si capisce perché questo debba essere accettato quando essere insultati o vilipese sono le esponenti donne ma io metto anche uomini di altri partiti politici specialmente se sono rivolti dall'altra parte dell'arco parlamentare ma chiunque essi siano. Noi riteniamo invece che la difesa dell'immagine, della dignità delle persone, donne e uomini, lo ribadisco, debba essere assolutamente trasversale e che la Regione debba dare il buon esempio e non utilizzare come testimonio o comunque sia e dare degli incarichi a delle persone che legittimamente come personaggi pubblici esprimono la loro opinione che però non può essere condivisa e non ci deve essere accostamento come la Regione Toscana. Noi abbiamo trovato quell'atto, un atto condizionato da un pregiudizio che è quello del pregiudizio nei confronti di Oliviero Toscani che come tutte le persone di questo mondo ovviamente può esprimere le proprie valutazioni. Noi tra l'altro a fronte dell'atto abbiamo proposto proprio per sgombrare il campo dal rischio che fosse davvero interpretabile come un pregiudizio a priori nei confronti di Toscani di separare le due parti, cioè noi eravamo assolutamente disponibili a esprimere ferma condanna rispetto alle dichiarazioni di Toscani nei confronti della Presidente Meloni, ci mancherebbe altro. Sul tema della revoca dell'incarico ci è sembrato ovviamente appunto un atto strumentale. Noi eravamo pienamente disponibili, questa proposta è stata rifiutata. Oliviero Toscani non ci meraviglia più ormai, dopo le sue frasi sul ponte di Genova dove sono stati allucinanti, orribili, orripilanti nei confronti di quella tragedia delle vittime dopo aver essere stato denunciato da un ragazzo e quindi condannato dal tribunale di un ragazzo della Calabrese che voleva semplicemente fare una foto con lui e che gli è stato detto no non faccio una foto con te perché hai la faccia da mafioso oggi, un po' di tempo fa su un'intervista di un giorno a Pecora continua a offendere i politici italiani gli elettori italiani ma soprattutto ad essere un sessista, un maschilista ad usare toni, modi e paroli nei confronti di una donna, di Giorgia Meloni che è un leader che veramente sono orripilanti l'ha usata nei confronti di Silvio Berlusconi nel tempo e le ha ribadite l'ha usata nei confronti di Giorgia Meloni, l'ha usata nei confronti di De Ricoletta l'ha usata nei confronti degli elettori che scelgono di andare a votare in un momento in cui l'affluenza è sempre in calo e noi facciamo uno sforzo dicendo agli elettori andate a votare ecco troviamo un naif che si permette di offendere tutti e tutti andando in televisione Francamente ci sembra alquanto inopportuno non revocare l'incarico alla luce appunto di dichiarazioni che sono assolutamente pesanti e che certamente non sono condivisibili ma che ci aspettavamo fossero stigmatizzate e condannate anche dalla maggioranza così non è stato ed è stato invece un pessimo segnale anche di sostegno a tutte quelle donne che si impegnano in politica e che quindi insomma ci richiamano un po' al voler dire pari opportunità a parole ma quando poi si passano i fatti ecco tutto quanto cade nel vuoto Premio Innovazione Toscana la presentazione del nuovo bando all'Ateneo Fiorentino Sì ha detto lei è importantissimo attraversiamo una fase economica difficilissima post pandemia purtroppo all'interno di una guerra di un mondo che sta cambiando la globalizzazione non è più una realtà e quindi per l'Italia e per l'Europa ma in particolare per il nostro territorio è fondamentale svilupparsi basandosi sull'innovazione naturalmente l'università con la ricerca e col trasferimento della ricerca verso il mondo produttivo è al centro di questo fenomeno Si partecipa a questo premio attraverso un bando che è attualmente aperto fino al prossimo 7 novembre si va sul sito del premio per l'innovazione toscana.it si scarica tutta la documentazione disponibile si va sul sito di sviluppo Toscana che è il soggetto che gestisce tutti i bandi di questa regione e si presenta domanda possono partecipare sia le imprese di tutti i settori di tutte le dimensioni le start-up innovative, gli spin-off accademici ma anche i giovani, i giovani ricercatori e le giovani ricercatrici che possono concorre soprattutto per valorizzare i tanti brevetti che fanno eccellente questo territorio si aspetta dalla chiusura del bando che appunto avviene il 7 novembre circa un mesetto, un mesetto e mezzo per poi avere gli esiti di questo premio che concede nove premi in denaro che comunque vanno dai 5 ai 15 mila euro e sono anche un'opportunità finanziaria ma soprattutto una vetrina per le imprese e si ha la premiazione da parte della Confiduzia Toscana e del Consiglio regionale all'interno di una cerimonia che vuole essere anche un evento che richiama l'attenzione della Toscana ma del nostro Paese sull'importanza dell'innovazione e soprattutto sulle due grandi transizioni industriali a cui quest'anno vuole dedicarsi il premio che sono la transizione digitale la transizione ecologica ed energetica violenza di genere, bambine negate un libro per il cambiamento nasce da un incontro nasce da un congresso possiamo dire per semplificare che l'opera raccoglie gli atti di questo congresso un congresso in tema della violenza di genere va da sé con una specifica importante a parer mio di significanza prima che è quella della violenza di genere nell'infanzia che talora viene praticata e quindi viene subita chiaramente senza che si colga come tale e c'è un chiaro riferimento anche ai concorsi di Baby Miss che è un tema assolutamente insensatamente poco esplorato perché è una forte predazione del diritto a essere una bambina quindi già vai a predare che il diritto in età adulta perché se a 5-6 anni vai a mandare il messaggio a una bambina piccola davvero che è vincente solo se magra solo se bella ecco dunque noi abbiamo già negato la pieno sviluppo completo di una personalità femminile adulta Cultura dal 5 al 19 novembre torna il Foiano Book Festival una manifestazione ricca di eventi con il libro grande protagonista noi abbiamo creato questo Book Festival tre anni fa nel 2019 allo scopo di sensibilizzare semplicemente le persone alla lettura cioè far venire voglia alle persone agli abitanti non solo di Foiano ma insomma della nostra area e possibilmente di tutta la Toscana di leggere e di incontrare gli scrittori perché poi molto spesso incontrare chi scrive i libri in voglia a leggerli perché ci sono dietro storie interpretazioni e quest'anno abbiamo un bellissimo programma devo dire abbiamo un buon numero di scrittrici donne ma importanti come Teresa Ciabatti Chiara Tagliaferri entrambe finaliste al premio Strega Federica Bosco che è toscana e Gaia Cenciarelli che è romana poi abbiamo personaggi anche importanti come Walter Veltroni Pupiavati abbiamo un attore che è Marco Bonini abbiamo un piccolo gruppo di scrittori romani anche e poi tra i romani l'importante Miguel Gotor che è l'assessore del Comune di Roma della cultura del Comune di Roma e parlerà del suo libro sugli anni 70 e gli anni di Piombo del Comune di Roma del Roma e gli anni di Roma e gli anni di Roma Grazie per la visione!